Arrivati da due giorni e già spariti da ieri nessuna traccia di una famiglia di nigeriani ospite a Vastagna. Drama della strada lungo la Gasparona a Breganza e nello scontro tra una macchina e un camion perde la vita un'automobilista. Si rafforza il fronte dei sindaci contrari all'accorpamento delle aziende sanitarie e cresce la richiesta dell'Uste della Pede Montana. Proseguono i lavori sul Ponte Vecchio, brutte notizie sullo stato delle traviligne e molte dovranno essere sostituite. E' polemica a Piazzola sul Brenta per il progetto di restauro di Piazza Camerini, la questione approda fino in regione. Primo giorno di lavoro a Bassano per lo spazzino elettrico garantirà strade più pulite, nessun rumore e aria più sana. Buonasera a tutti voi telespettatori, iniziamo il nostro telegiornale parlando di profughi in fuga dalla Val Brenta. Una famiglia di nigeriani ospitata è scappata dalla casa dove era stata ospitata appena due giorni fa. Sentite. Sono andati via senza lasciare nessuna comunicazione per cui insomma se hanno scelto di essere in barriera della sorte non è un problema nostro. Erano appena arrivati due giorni a Vastagna e sono già spariti. Una famiglia di profughi nigeriani, lui e lei incinta e un figlio piccolo. Il sindaco Carlo Perli, protagonista con altri primi cittadini della Val Brenta di un sistema di accoglienza diffusa che in questa zona della provincia sta tra l'altro ospitando e ospiterà altri nuclei familiari, ha immediatamente avvisato la prefettura che a sua volta ha allertato i carabinieri. Erano alloggiati in albergo in centro al paese, però in attesa di essere trasferiti un alloggio a Primolano e un altro sempre nella frazione di Vastagna. Lei aveva avuto modo di incontrarli, di parlarci? Sì, sicuramente. Quando sono arrivati li ho accolti e loro sembravano persone anche abbastanza molto tranquille. Tutto sommato non davano certi segni di irrequietezza. Avevano già manifestato il desiderio di trasferirsi al nome? No, no, no. Quindi non è che sono espansivi, che dicono, parlano. Cioè bisogna proprio tirargli fuori le parole dalla bocca. Se c'è una morale, un insegnamento da trarre da questa vicenda, è forse, secondo Carlo Perli, una semplice considerazione, peraltro già nota. Per molti di coloro che arrivano, il nostro paese rappresenta solo una tappa di passaggio verso altre destinazioni. Resta poi l'amarezza di chi aveva offerto tutto dal punto di vista umanitario, unita alla consapevolezza dell'impossibilità di un controllo capillare 24 ore su 24 sulla presenza dei profughi. Io credo che noi dobbiamo comportarsi nel migliore dei modi, dando tutta l'opportunità possibile per accogliere queste persone in difficoltà, però nello stesso tempo non è che possiamo creare ciò che tutto sommato loro non vogliono che sia creato. E chiediamo subito un primo commento sulla vicenda al nostro ospite di questa sera, il presidente dell'Unione Montana Valbrenta, Luca Ferazzoli. Buonasera, presidente. Buonasera a lei, buonasera. Allora, l'abbiamo visto il primo servizio, questa famiglia scappata, cosa dice? Dico che è un caso, richiamo ovviamente quanto detto dal sindaco Carlo Perli, però si tratta di un caso particolare nel senso che noi abbiamo dato vita a questa prima esperienza di microaccoglienza e queste sostanzialmente erano le prime due famiglie che arrivavano. La cosa singolare è che successivamente alla loro fuga noi abbiamo capito che queste persone avevano già avuto dei contatti con il comune di Posina, precisamente, e quindi già lì era iniziato un percorso. Quindi nel momento in cui c'è stato l'allontanamento, poiché diciamo questo comune aveva in parte rivendicato queste persone, siccome un percorso era già stato iniziato, si sono verificate delle situazioni per cui in un primo momento non era facile capire se era stato un allontanamento volontario oppure se vi era la volontà di ritornare a Posina dove avevano già avuto dei contatti. Dalla nostra rete di informazioni, perché noi vogliamo fare una gestione fatta bene e quindi abbiamo assunto come cooperativa Val Cismon anche una persona nigeriana che possa fare, diciamo, da mediatore, non chiamiamolo culturale, ma dal punto di vista operativo, li abbiamo contattati più volte al telefono. Una prima volta hanno risposto, avevano manifestato la loro intenzione di tornare e poi abbiamo perso le tracce. Questo crea dei problemi, come ha ben detto il sindaco Perli, noi non possiamo obbligare le persone a rimanere dove viene loro offerto un posto, però dispiace perché, diciamo, c'è stata la massima disponibilità da parte di tutti. Quindi cercherà di cambiare questo sistema, diciamolo così, di sorveglianza nei confronti dei profughi, vista questa esperienza? Sì, diciamo che noi in questo caso non abbiamo avuto nemmeno il tempo di iniziare quello che avevamo pensato per loro, quindi, diciamo, è stata una prima esperienza significativa, ne abbiamo avuta un'altra di altrettanto significativa perché ieri sera a Primolano abbiamo ospitato una famiglia ganese e la sera la mamma ha partorito una bambina. Quindi, diciamo, noi abbiamo dato la disponibilità, lo facciamo col cuore, però in questa prima fase ci sono successi un po' di episodi fortunati come la nascita e sfortunati come quello della fuga. Quindi vedremo poi prossimamente. Parliamo invece di una notizia di cronaca, il dramma della strada nel tardo pomeriggio di oggi lungo la superstrada Gasparona in territorio comunale di Breganze. Attorno alle 17.45, nello schianto tra un'automobile ed un camion, si è registrata una vittima dalla quale non sono ancora conosciute le generalità sul posto sanitario della 118 e l'elisoccorso di Padova e la polizia stradale. Presidente, voi sapete, siete molto a conoscenza degli rischi della strada vista la strada della Pedemontana. Sì, noi nella Valle del Brenta abbiamo parecchi problemi che sono noti e sono oggetto di cronaca. In particolare la necessità di ammodernare la statale 47, che ha visto tante morti, che ha negli anni subito delle modifiche che hanno reso questi eventi nefasti meno numerosi, ma è una strada che necessita di un ammodernamento importante. Ovviamente noi seguiamo con speranza ed angoscia tutto l'iter che sta portando all'eventuale completamento della Valdastico, perché sappiamo che in quella partita, avendo io avuto modo di parlare direttamente col Ministro, è inserita anche la possibilità, qualora quel percorso venga portato fino a termine, di ottenere con fondi statali l'ammodernamento della Valsugana, della statale 47, ma non posso esimermi dal condannare lo stato attuale, perché vi è una carenza di asfaltatura che sta portando quel tratto a non essere più considerato una strada, con buche pericolose e aggravate da queste piogge. Noi siamo strettamente in contatto con Anas, c'è un impegno ad asfaltare quanto prima, doveva avvenire entro l'inverno, ma per motivi burocratici sembra che ciò sia spostato entro la primavera del 2016. E parliamo ora invece di un altro argomento di sanità, si rafforza a fronte dei sindaci che si oppongono alla legge regionale che cancella l'azienda sanitaria di Bassano e si rafforza la proposta di Rete Veneta per la creazione di un'ulsa della Pedemontana. Una centralizzazione per noi incomprensibile e senz'altro molto pericolosa per un modello socio-sanitario Veneto che è sempre stato molto legato al territorio. La spiegazione della legge che accorpa le aziende sanitarie del Veneto avvenuto durante un incontro con i sindaci della provincia di Vicenza non ha convinto, anzi proprio la lettura nel dettaglio articolo su articolo del provvedimento ha rafforzato la convinzione di chi teme e denuncia un accentramento eccessivo che porterebbe ad un cortocircuito nell'erogazione dei servizi sanitari al cittadino. Noi quattro presidenti delle conferenze dei sindaci del Vicentino abbiamo condiviso con i presenti quelle perplessità che noi da settimana a settimana stiamo condividendo con i sindaci ma anche con la commissione consigliare regionale per cercare di sensibilizzarli a modifiche a questo testo normativo. Cancellare tutte le ulse salvando solo i capoluoghi di provincia avrebbe l'effetto di un ennesimo trasferimento da Bassano a Vicenza, un'altra istituzione che lascia la città più o meno come è accaduto l'anno scorso con il Tribunale. La controproposta è seria, non un taglio cieco sulla base delle province ma una riorganizzazione che rispetti le conformità del territorio. Prende forza dunque la proposta già lanciata da Rete Veneta di una ULS della Pedemontana. Noi anche in commissione quinta abbiamo ribadito che sia in ottica intra-provinciale quindi parlando di Alto Vicentino o per il Bassanese anche in ottica intra-provinciale pensando anche al Padovano e al Trevigiano si deve ragionare su numeri più piccoli anche su contiguità territoriali, cioè mettere dentro a un'unica ULS che senz'altro sarà un po' più grande di quella che c'è adesso, territori in sé abbastanza simili. E secondo voi telespettatori l'ULS Bassanese farà la fine del Tribunale? Potete dire la vostra opinione agli indirizzi che state vedendo attraverso il nostro Tg Linea Aperta. E la stessa domanda la pongo a lei, Presidente. L'ULS, secondo lei è possibile della Pedemontana? Io dico che non solo è possibile, è necessaria. Noi dovremmo fare tutto quello che si può e anche, non dico con modi aggressivi, ma la necessità di far valere le istanze di un territorio. Il paragone con il Tribunale è più che mai pertinente ma io lo vedrei in chiave positiva. Cioè, a mio avviso, il ragionamento è più ampio. Le province stanno scomparendo, certi limiti che forse erano più nella nostra mente che amministrativi si stanno affievolendo e quindi la Pedemontana è un territorio che si apre. Noi dobbiamo ragionare da territorio pedemontano, secondo me, in ogni aspetto della vicenda amministrativa. Vale per il Tribunale, vale per l'ospedale, vale soprattutto per il turismo. Perché un turismo, a mio avviso, che sia limitato al Brenta, rischia di essere riduttivo e perdere le occasioni di sviluppo per un territorio che, quantomeno, deve andare dal Piave al Brenta. Quanto meno. E sentiamo ora il commento del nostro Presidente Zaia sul governo che ha varato oggi la legge di stabilità. Avverte Zaia. Non ci sono informazioni sulle coperture. Si rischiano nuove tasse. Sentite. Legge di stabilità. Oggi il governo Renzi ha varato la manovra da 27 miliardi di euro. Le misure più importanti vedono l'abolizione delle tasse sulla prima casa. Confermati i superammortamenti per le aziende che investono in macchinari che potranno ammortizzare il 140% del loro valore. E poi le misure sul contante, con il tetto di utilizzo che passa da 1.000 a 3.000 euro. Ad oggi, ha commentato il Governatore del Veneto Luca Zaia, non ci sono informazioni sulle coperture ed è quindi reale lo spettro di nuove tasse o di tagli poderosi alla sanità. Fino ad oggi, e non sono stato smentito, non c'è ancora informazioni sulle coperture. Coperture per i non addetti ai lavori vuol dire che se tu stanzi qualcosa devi dire da dove prendi i soldi. Lo spettro di nuove tasse, piuttosto che di tagli poderosi alla sanità, è uno spettro reale. Siamo del resto davanti a un Governo che ha tagliato dagli enti locali in questi anni il 35% e oltre. E dai Ministeri solo il 12%. E secondo lei, Presidente, ci saranno più o meno tasse? Beh, è difficile fare un'analisi in questo momento. Diciamo che noi abbiamo vissuto una delle fasi più drammatiche per la nostra nazione. Difficile anche per chi ha amministrato in questi anni, soprattutto difficile per i cittadini. Ma anche chi ha guidato le nostre comunità ha trovato difficoltà nelle difficoltà perché si continua a cambiare la tassazione. Non vi è certezza. Io, a mio avviso, ovviamente avrei preferito, ma questa è un'opinione del tutto personale, un sistema federalista in cui rimanga moderata sicuramente, ma una tassa sulla prima casa che sia pagata dai residenti, che sia lasciata al comune, in modo tale che il cittadino nel momento in cui vota giudica su come sono state utilizzate le risorse che ha lasciato alla propria comunità. Mentre una tassazione su reddito che venga riservata allo Stato. Io credo che questa iniziativa del governo centrale vada in controtendenza. Io confido, insomma, che non ci sia un neocentralismo perché comunque, in particolare, le zone montane che io, diciamo, difendo strenuamente perché hanno necessità di un'autonomia e di un federalismo, chiamiamolo fiscale-municipale, sempre più accentuato, non perdano la loro peculiarità. Ed entriamo ora nel cuore di Bassano e parliamo dei lavori sul Ponte Vecchio. Brute notizie sullo stato delle travi. Molte si presentano guaste. Guardate le immagini. Ponte Vecchio di Bassano. Sono in corso le operazioni di smontaggio delle tavole di legno ed ecco come si mostrano le travi. Le loro condizioni sono pessime, deteriorate dal tempo e dalle infiltrazioni d'acqua. Lo si vede chiaramente che sono marce. Non tutte, certo, ma ce ne sono diverse che sono davvero in un cattivo stato di conservazione. Stiamo rimuovendo il talo lato marce. Anche le travi lì, quelle sono più deteriorate? Quelle le vanno sostituite, penso. D'altra parte, si sapeva, era necessario aprire per vedere effettivamente le condizioni del legno del manufatto palladiano. E questo è quello che si è trovato, travi portanti deteriorate, danneggiate in maniera irreversibile, legni che evidentemente così non possono restare. Queste qua sono, diciamo così, guaste, ecco. E quindi, se sono guaste vuol dire che non sono state trattate come si dovrebbe. Dimostra come è una bella donna. Quando si apre bisogna vedere che trovi. Il ponte messo a nudo mostra tutti i segni del tempo. I bassanesi osservano e commentano. La preoccupazione non manca. Nel 1966, quando c'è stata una grande alluvione, io c'ero, il ponte ha tenuto. Vent'anni fa quando l'hanno rimesso a posto, non so, è peggiorato. Ora l'hanno rimesso a posto o l'hanno peggiorato? Questo è il discorso. Speriamo che resisti all'acqua alta, che resista adesso con le piogge, con le grandi piogge che ci saranno per l'inverno. C'è solo da sperare che non cadi tutto. Quindi, Pontevecchio, il simbolo di Bassano, iniziano i lavori, ma siamo ancora molto preoccupati. Sì, siamo preoccupati, però per noi abbiamo il cuore là, è il simbolo di un territorio, quindi c'è di positivo la copertura finanziaria per fare i lavori. Speriamo che il tempo ci dia una mano e confido che venga fatto tutto quello che serve. Ed oggi, intanto, c'è stato il primo giorno di lavoro di una figura che diventerà abituale per i bassanesi. Parliamo dello spazzino elettrico. Per ora è solo un giro di prova in vista delle entrate in servizio tra pochi giorni. Presto, infatti, lo spazzino elettrico diventerà una presenza abituale per le vie e le piazze di Bassano. Assicura pulizia più approfondita, nessun rumore e aria pulita, e non sono gli unici pregi. Il vantaggio sostanzialmente è che ci permette di raggiungere quei punti dove con il servizio di spazzamento normale non riusciamo. Faccio l'esempio Ponte Vecchio, faccio l'esempio Peteta Guadagnin, dove diventa impossibile entrare con le macchine normali proprio per la presenza del saiso, il ciotolato stesso. Va energia elettrica, quindi non è un motore a scoppio, quindi andiamo a ridurre le emissioni in atmosfera di CO2, gli inquinanti, diciamo, degli corburi soliti. La macchina è notata di un doppio motore, quindi uno per l'aspirazione e uno per la trazione, in maniera tale da rendere indipendenti i due meccanismi. Lo spazzino elettrico che gira per Bassano, grazie ad una convenzione tra e tra il comune, è l'unico in provincia di Vicenza. Per ora partirà la domenica mattina in maniera sistematica in centro storico, poi saranno ampliati i passaggi in centro storico e vediamo anche di trovare una modalità di gestione nei quartieri. Dunque il nuovo mezzo entrerà in servizio effettivo e permanente da domenica, intanto il giro di prova è stato superato a pieni voti. È leggera e abbastanza veloce e non fa rumore, semplicemente. Tira su tutto. Sì, 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 vedo per ora che tira su tutto, veramente. Quindi una bella notizia, sembra per la polizia, non solo per noi cittadini ma anche per i visitatori. Sì, io nutro invidia e faccio i complimenti, una bellissima iniziativa, sostenibile dal punto di vista ambientale e poi credo che tutti noi vogliamo le nostre città pulite ed accoglienti. Ed ora invece come ogni settimana diamo spazio alla rubrica dedicata al centenario della Grande Guerra. Francesco Bonato, contadino, nato a Crosara di Marostica il 30 aprile 1883, chiamato alle armi per effetto della mobilitazione generale del 15 luglio 1916, fu fatto prigioniero nel 1917, morì in un campo di prigionia ungherese l'11 marzo del 1918. Aveva 35 anni quando è morto, ha lasciato qui in Italia cinque figli, tra i quali il primo genito era il papà di mio marito, Bonato Domenico, e la moglie. E poi hanno dovuto andare anche profughi. Perché? Perché? Pensi lei? Cinque figli? Il mio suocero era il più grande e diciamo, ecco, cosa hanno passato? Dei cinque figli che rimasero orfani di Francesco Bonato ne è sopravvissuta una. Che penso, penso proprio, che sia l'ultima orfana di guerra. Lucia Bonato compie 105 anni, un traguardo straordinario che ha unito tutta la comunità marosticense. Anche la famiglia di Ubaldina, suo padre e i suoi tre fratelli combatterono nella Grande Guerra e sopravvissero tutti. Vittorio Emanuele III è stato su in Ubaldina e precisamente a casa mia. A casa sua? A casa mia! C'è stata una targa per tanti anni, mi ricordo sempre. Ha dormito lì nel corso della sua visita? Non so se ha dormito, non posso dirlo. Comunque, perché in questa costa c'era un accampamento. Molte iniziative della Grande Guerra anche in Val Brenta, giusto Presidente? Sì, il nostro territorio purtroppo è stato oggetto e attenzione di questi tragici eventi. Le iniziative pullulano, sia dal punto di vista strutturale, con investimenti importanti, perché la stessa realizzazione del Museo Storico della Ferrovia, con il treno a vapore e il riammodernamento di forti, quali quello tagliato della scala, si prestano iniziative che noi stiamo studiando. Altre sono già in procinto di essere realizzate attraverso le scuole, perché credo che sia assolutamente fondamentale far capire quali sono i drammi che hanno colpito quelle generazioni, affinché non si ripetano più. Quindi, oltre a questi appuntamenti, abbiamo anche un primo appuntamento domenica per la trentesima stagione concertistica organizzata dagli Amici della Musica. Una ventina gli appuntamenti in calendario, da qui fino a primavera. Un concerto al mese al Teatro Le Mondini la sera e poi le rassegne speciali di musica in salotto la domenica pomeriggio, questi ultimi ospitate nella Sala della Musica a Palazzo Scramoncine, Palazzo Roberti, in Centro Storico a Bassano. Ed ora siamo alla pagina dell'Alta Padovana. E siamo a Piazzola sul Brenta, dove è polemica sul restauro di Piazza Cialdini, è arrivata fino in Regione. Le polemiche, si sa, sono praticamente inevitabili una volta che si decide di mettere mano ad un paesaggio urbano, soprattutto se si trova in una zona storica. Inevitabile, quindi, che a Piazzola sul Brenta il dibattito sui lavori di riqualificazione di una piazza importante come Piazza Camerini abbiano suscitato una discussione profonda. Lo scontro tra favorevoli e contrari si concentra sull'abbattimento di 18 alberi, 18 carpini bianchi che furono piantati in triplice filare negli anni Ottanta. E subito si rinnova lo scontro tra l'amministrazione comunale, che quel taglio lo ha previsto e motivato nel progetto, e la raccolta di firme di quei cittadini che non sono d'accordo e hanno promosso una petizione che ha superato le 2000 adesioni. Questa volta, però, la polemica ha superato anche i confini comunali, visto che sulla questione a Venezia è stata chiesta alla Regione una verifica sull'impatto ambientale e architettonico. Insomma, in attesa di conoscere quello che sarà il futuro di Piazza Camerini, la discussione procede. Presidente, domanda di routine al nostro termine di telegiornale. Quali sono i vostri prossimi impegni? Beh, gli impegni sono tanti. Abbiamo visto quelle che sono le difficoltà, ad esempio, della gestione dell'emergenza a profughi, ma diciamo che ciò che sta caratterizzando in maniera importante è la Valbarenta e appunto la Costituzione dell'Unione Montana-Valbarenta con il trasferimento di tutte le funzioni dei comuni all'Unione. Si tratta di fatto della realizzazione di un comune unico dal punto di vista amministrativo, perché entro il 2016 ci sarà anche il trasferimento di tutti i dipendenti all'Unione, quindi non vi saranno più dipendenti dei comuni. Chiunque, diciamo, mastica un po' di amministrazione sa però che non può esserci unità amministrativa senza unità politica, nel senso che il percorso ormai è avviato e credo che noi dovremmo essere occupati pesantemente con molta attenzione e con molto entusiasmo anche per fare una valutazione circa la necessità di accorparci dal punto di vista politico. Io le ringrazio Presidente per essere stato qui con noi. Grazie a lei. Invece ricordo il vostro prossimo impegno che è questa sera alle 21.05 con Focus dedicato ai Veneti schiacciati dalla crisi. In grella il nostro direttore, gli assegni e tante storie di famiglie in difficoltà. Grazie dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.